Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Dove siete? Venezia, ho trovato all'Ermitage di Vercelli, buongiorno. Come state? Come va? Benissimo, molto molto bene. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Allora, ma questo è un progetto figo, figo, figo. Io pensavo fosse un ponte, così. No, no, qua andiamo a solo vedere. Più e su ci fanno andare. Cioè, praticamente, cosa unisce questo? Questo è una parte del progetto della, diciamo, circondalazione di San Pietro. E non hanno pensato di fare una parte che unisce la parte interna. Siamo qua. Poi abbiamo... Vediamo che la metropolitana è un canto. No, è... Vabbè, sempre un sè, certo. E poi, quanto vale quelle corrigonazione? Vanno un miliardo di euro. Questo quanto vale il totale? Questo è un miliardo di euro. E l'autostrada? L'autostrada sono circa... ...e l'aeroporto l'avete finito? Il team era lo stesso, che lavorava in una parte, alcunissima... Chi ha lavorato anche all'aeroporto? Sate la mano. Un po' qua. Di lei, cittadino San Pietroburgo? Sì, sì, non torno più in Italia io. Vado qua. Da andare a Presidente Consiglio, un bel messaggio di speranza. Il ring di San Pietroburgo serviva un diametro per accorciare la percorrenza. Questo era stato fatto. Mancava la parte centrale che era più difficile. Grazie.